Eccoci in diretta da Palazzo San Giacomo, buongiorno, buongiorno al Sindaco dei Magistris, grazie per aver accettato la nostra richiesta di questa intervista. Iniziamo la giornata appunto con il Sindaco dei Magistris, allora noi in questi giorni siamo andati in giro per Napoli in occasione del Ponte dell'Immacolata e ci siamo resi conto di una città viva, piena di turisti, il boom del turismo qui a Napoli. Mi fa piacere appunto che l'abbiate notato, io dico sempre Napoli deve essere vissuta, non solo letta sui giornali. Abbiamo un dato straordinario quest'anno, più 40% rispetto al dicembre dello scorso anno che già fu un anno eccellente. Tanti turisti, un'offerta culturale importante, una città che si deve attrezzare ad essere sempre di più una città che apre le sue porte al mondo. Abbiamo visto tantissimi ponteggi, questo ci fa ben pensare perché la città sta in fase di ristrutturazione, ma c'è un piano anche alla luce di quello che è successo a luglio, questo ragazzo di 14 anni che ha perso la vita a causa della caduta di un cornicione. Ma c'è un piano su questi smottamenti, su queste frane di cornicioni nel centro storico di Napoli? Oppure ci si affida a San Gennaro, no? No, 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 nessuno si può affidare al nostro santo. Il tema è che l'Italia avrebbe bisogno di un piano Marshall. I dati della protezione civile nazionale, 80-90% delle scuole italiane che non sono a norma. Le nostre risorse, i sindaci sono in prima linea, sono esigue. Quest'anno, col miglioramento dei conti economici al Comune, abbiamo messo più risorse sicuramente per la riqualificazione e ristrutturazione di edifici pubblici, ma questo vale per gli edifici privati, come il caso del cornicione quando morì il povero Salvatore o anche altri casi. Quindi sicuramente si può investire un po' di più, ma attendiamo anche una risposta del Governo quando si tratta di mettere in sicurezza il Paese. Il dramma, siamo proprio alle porte del Natale, il dramma qui a Napoli, ma in tutta la campagna, è la disoccupazione giovanile. La sua giunta, come si sta impegnando? Se siete riusciti anche a raggiungere qualche successo, mi rendo conto che non dipende tutto dal Sindaco, ma l'aggiunta come si è data da fare in questi mesi? Anzi, diciamo che il lavoro è proprio un tema delle politiche del Governo. Noi ci attrezziamo per rendere Napoli sempre più attraente per gli investimenti. Quindi meno burocrazia inutile, più capacità attrattiva. Ecco per esempio l'offerta turistico-culturale, fondare molto sulle eccellenze campane, che sono l'enogastronomia, l'artigianato, la piccola e media impresa. Ci siete riusciti? Sì, noi abbiamo dati importanti. La mafia, stiamo scoprendo in questi giorni, leggendo i giornali, non è soltanto in Sicilia. La criminalità non è soltanto una questione della campagna. Abbiamo letto anche di casi forti, pesanti, nella capitale. Io le faccio una domanda a Bruciapelo, anche da ex magistrato. Ma il Comune di Roma andrebbe sciolto, secondo lei? Innanzitutto diciamo che da tanti anni, che diciamo che le mafie sono globali, internazionali, guai pensare che sono solo al sud. Anzi, ma non voglio entrare in questa domanda così legittima, ma così complicata, perché per poter rispondere bisogna conoscere bene gli atti. Una vicenda gravissima, anche perché Roma è la capitale del nostro paese e la penetrazione della criminalità organizzata con dei colletti bianchi nell'istituzione della politica mi sembra molto forte. Un'ultimissima domanda. C'è stata una vicenda che l'ha riguardata per abusi in atto d'ufficio. Questa condanna, lei la vive come una spada di Damocle o come una vera e propria ingiustizia nei suoi confronti? No, spada di Damocle no, perché sono 15 anni da quando è iniziato a fare il magistrato in un certo modo. Sembra il comma 22, gli accusati che diventano accusatori, gli accusatori accusati. È un'ingiustizia clamorosa, ma io da uomo delle istituzioni debbo sperare e voglio sperare che ci siano altri magistrati che possano rapidamente riformare quell'ingiustizia. Certo, è triste. È triste. Io per 15 anni, gli anni migliori della mia vita, ho fatto il magistrato ai 25 ai 40, ho dedicato tutta la mia vita a quel lavoro. pensavo ed ero certo di non avere medaglie da parte dello Stato, ma addirittura continuare a pagare per aver fatto in Calabria, soprattutto terra da cui i magistrati scappavano e io avevo deciso di restare, pagare sulla propria pelle dei miei collaboratori è un brutto segnale. La conferma è che corruzioni e mafie sono molto entrate dentro lo Stato. Questa è la novità rispetto a 20 anni fa. 20 anni fa si metteva il tritolo militare, oggi c'è molto tritolo istituzionale. Sindaco, buon lavoro e buon Natale. Grazie per averci accolto qui a Palazzo San Giacomo. Grazie mille.